Cari quaddisti eccoci, Marco Magnetti, Paul della QX4, un solo giro, Paul assoluta, 2 minuti 0-2 se non erro, giusto? 2-0-3 2-0-3, comunque signori la QX4 è over 40, è il vecchio Magno in un giro solo, 2-0-3 secchi, Paul, gestione del tracciato, è riuscito a trovare i punti dove recuperare i decimi preziosi Marco, sei stato un grande è andato bene, è andato molto bene, quindi ringrazio come sempre Offroad Motors nella Vesta di Montico e la Quaddi che mi supportano e mi fanno divertire ancora, a me piace tanto divertirti e non solo ti diverti ma a Paul Position sì, è andato molto bene Marco, ti abbiamo visto in questo tracciato veramente tecnico, veramente duro, avere una superiorità nelle traiettorie, nell'arguzia, nel fare poca strada e nel portare a casa il tempo migliore ricordiamo che una QX4 di over 40, quindi più di 40 anni e girare in 2-0-3 è un tempo spettacolare visto che comunque avrei potuto fare il podio, quindi sono molto soddisfatto questo è più che merito Marco, visione gara domani, 10 minuti più 2 giri qua vuol dire 15 minuti di gara sicuro attaccherai dal primo all'ultimo? beh sicuramente sarà un altro giorno, la gara è diversa, Cristian è molto allenato e per te è migliore e non c'è da sottovalutare tutti gli altri e ricordiamo comunque che il Pinoli nel tempo gara è veramente competitivo, è il tuo grande avversario dall'inizio dell'anno Marco, complimenti per la Paul, in bocca al lupo e un arrivederci a domani per la situazione dopo gara 1 e dopo gara 2 perfetto complimenti Marco grazie, ciao